Il porto d'armi per difesa personale può essere richiesto solo da chi si trovi in una condizione di attuale, concreta, grave, potenziale esposizione a rischio, cioè traduco, non basta che tu faccia un lavoro che ti metta necessariamente in pericolo, ti espunga a rischi, che ne so, magari sei un gioielliero o ti trovi a maneggiare soldi o altri beni di un certo valore. Se non c'è questo concreto e grave potenziale rischio non potrai ottenere il porto d'armi per difesa personale. Inoltre restano ferme tutte le norme in tema di requisiti soggettivi, vale a dire una condotta praticamente limpida, la non frequentazione di persone di particolare allarme, l'assenza di condanna soprattutto se per reati particolarmente gravi. Inoltre quanto alla condanna anche l'eventuale riabilitazione potrebbe non essere una condizione che consente di superare il pregiudizio dell'ostatività, nel senso che dopo la riabilitazione potrebbe comunque esserti negato il porto d'armi per difesa personale. È il diritto penale. Che stè?